Buongiorno a tutti dagli escursionisti del trekking Gerano. 14 marzo 2021 ci troviamo al santuario della Madonna della Quercia a Marano Equo sulla valle della Niene. Siamo partiti da Rocca di Mezzo, frazione del comune di Rocca Ganterano nell'area metropolitana di Roma, scendendo lungo una strada bianca percorribile anche in automobile fino a Prato Marano. Svoltando a destra abbiamo preso il sentiero 568. La difficoltà del percorso è facile ma interessantissima tra rocce e splendidi boschi di quercia con sali scendi su un terreno sterrato e roccioso e in circa 45 minuti abbiamo raggiunto il santuario della Madonna della Quercia del 1540. La leggenda narra che fu costruito alle pendici dei Monti Ruffi proprio perché in quel luogo apparve una Madonna sopra un ramo di quercia insanguinato. Il miracolo è raffigurato in un affresco dell'epoca all'interno della chiesa che purtroppo troviamo chiusa per covid. Un saluto a tutti alla prossima escursione.